Possiamo allora cambiare ancora pagina, siamo arrivati, è una puntata intensa oggi, eh ragazzi, qua ce la guadagniamo la pagnotta, eh? Giusto? Adesso un attimo arriverà Andrea De Midio, l'abbiamo spoilerato prima. Buonasera Andrea, Odissea Quotidiana, siamo al punto trasporti, abbiamo cominciato dal lacheraggio di Ada, quindi quello l'abbiamo messo da parte. Di cosa ci parlate oggi nel punto trasporti? Prego. Sì, buonasera Andrea, buonasera a tutti i telespettatori. Questa sera dedichiamo integralmente il punto trasporti su un report che abbiamo pubblicato questa mattina e che riguarda la linea B della metropolitana di Roma, perché abbiamo certificato il fatto che in servizio viaggia un treno su due. Eh diciamo, facciamo un passo indietro. Eh diciamo che in generale eh la mancanza di manutenzione è un fatto che colpisce trasversalmente le metropolitane a Roma, stazioni che insomma lo vediamo tutti i giorni eh cadono a pezzi, infiltrazioni, ascensori fermi, scale mobili e anche i treni però hanno cominciato ad arrancare. Dopo la proroga eh sui convogli della metro A eh per via delle mancate revisioni eh ci è stato anche ci sono stati anche diversi problemi con la linea C che nel corso del duemilaventidue ha visto l'uscita di di un treno al mese eh dal servizio eh situazione che sulla metro A e sulla metro C comunque eh non è eh diciamo tanto critica quanto in realtà eh lo è sulla linea B. eh perché ehm diciamo ehm prima eh diciamo nel corso dell'autunno scorso nel duemilaventidue era stata data dall'assessore Patanè eh era stato diciamo promesso un ritorno a quattro minuti di frequenza sulla 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 metro B sulla tratta eh diciamo in comune eh tra le in comune la Orentina Bologna eh ed effettivamente questo è avvenuto nell'ultima parte del duemilaventidue. con il nuovo anno però la situazione è cominciata a peggiorare a causa dell'avvio delle revisioni intermedie eh di eh alcuni convogli e delle eh di alcuni fermi di altri convogli di diversa tipologia eh per la eh revisione generale che coinvolge anche in realtà i treni della metro A e eh anche i treni che sono in servizio sulla Roma Lido. quindi l'infrastruttura è rimasta diciamo a reggersi su pochi convogli rimasti tra l'altro molti di questi in realtà risalgono agli anni novanta eh e per questo abbiamo deciso di eh abbiamo ritenuto opportuno effettuare un controllo dal vero sui treni effettivamente di servizio eh sui eh quarantuno che sono disponibili per la linea. e in realtà ciò che abbiamo risurato eh misurato sul campo ehm riguardo treni e frequenze è che ad oggi sono attivi solo quindici treni sui ventotto programmati con frequenze ogni cinque sei minuti sulla tratta la quarantina a Bologna e ogni dodici minuti sulle diramazioni Bologna-Rebibbia e Rebibbia-Ionio. quindi insomma. Abbiamo anche una grafica per questo lavoro che avete fatto come sempre puntuale certosino stiamo parlando del rapporto con regimi se non è così Andrea tra ciò che da 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 contratti insomma nel ordinario dovrebbe avere a disposizione ehm i soggetti, le aziende, il trasporto pubblico, ciò che effettivamente invece troviamo sui binari ogni giorno. questa questa grafica ecco. Eh prego. Allora in riguardo quello che dicevi sì sono in realtà ventotto i treni che ci risultano eh diciamo sulla carta eh per la linea effettivamente abbiamo questi tre giorni di monitoraggio parliamo del quindici marzo, diciassette marzo, venti marzo, abbiamo rilevato quindici treni in tutti e questi in ogni in ognuno dei tre giorni abbiamo rilevato quindici treni in servizio sui ventotto eh che dovrebbero essere programmati. quindi parliamo di un servizio poco sopra il cinquanta per cento eh il grafico che mostravate prima invece riguarda un altro monitoraggio che abbiamo fatto eh sempre sulla sulla linea B che ah chiedo scusa riguarda invece eh la tempo di attesa dichiarato in blu tempo di attesa effettivo in rosso. Prego. Potete vedere i tempi di attesa dichiarati dai tabelloni delle banchine eh della banchina nella fattispecie dove abbiamo effettuato il monitoraggio eh eh quindi i tabelloni mostravano i tempi di attesa eh che abbiamo eh diciamo inserito appunto in questo grafico e sono rappresentati alla curva blu. Invece la curva rossa è quel è il tempo di attesa effettivo. Possiamo vedere un andamento delle della curva ehm di frusta che cosa va a significare? Che eh maggiore è la tesa eh diciamo dichiarata dal tabellone maggiore è lo scosamento eh che si ha rispetto al tempo di attesa effettivo. Questo da cosa è causato? Baneamente dal fatto che eh se tra eh il treno precedente e il treno successivo passa più tempo il convoglio tenderà a riempirsi maggiormente e quindi in tutte le stazioni sostanzialmente effettuerà delle soste più pubblicate e quindi il tempo di attesa dichiarato si discosta in realtà da quello che poi sarà eh quello effettivo. Quindi eh questo andamento colpo di fronte sia quelli effettivi in realtà e la sofferenza del servizio che iniziano circolando in questi giorni quindici treni su ventotto ribadiamo dei numeri insomma impressionati praticamente il cinquanta per cento del servizio eh programmato e eh non si riesce quindi più a garantire un distanziamento regolare e costante dei treni. Ovviamente noi abbiamo effettuato questo questo rilevamento su sulla metro B che a nostro avviso è quella eh più critica al momento ovviamente in futuro eh potremo eh stiamo valutando se effettuare questo tipo di monitoraggio anche sulle sulle altre linee della metropolitana. trovate ovviamente l'articolo e il report completo pubblicati sul nostro sito www.odisseacotidiana.com e allora lasciami concludere dicendo ribadendo una cosa Odissea Cotidiana come altri per carità a Roma ma da anni loro fanno questo cioè oltre a informare puntualmente oggi è stata una polemica tosta con Infoatac perché eh banna insomma utenti eccetera loro che non vengono pagati da nessuno tantomeno da noi eh così se qualcuno poteva ipotizzare fanno questo eh a tempo libero pensate che servizio danno alla città eh riconosciuti anche qui dall'assessore Patanè che ha detto io li leggo sempre allora verrebbe da dire ma sta roba che cosa serve dice l'assessore certo io direi sul tavolo dell'amministrazione l'amministrazione sa benissimo che ci sono questo tipo di carenze che dette così come diceva giustamente Andrea sono assurde ventotto treni ce ne sono quindici ma io penso che sarà e restano te lo faccio dire subito uno stimolo e anche no è un un grande un grande eh elemento di trasparenza per noi tutti così sappiamo che non è un caso se poi il treno ti arriva eh in tempi non eh prego Andrea chiudi. Sì un'ultima battuta giusto per concludere proprio perché noi comunque effettuiamo questi report anche in ottica eh nell'ottica di proporre eh delle soluzioni all'amministrazione e ad Atac e certamente ciò che potrebbe essere attuato a breve eh lo riportiamo nelle conclusioni del nostro report nel breve periodo è la pubblicazione dei dati eh in tempo reale già disponibili secondo l'articolo ventotto del contratto di servizio di Atac e che non sono resi pubblici eh dall'Agenzia per la mobilità per consentire appunto agli utenti di poter eh pianificare con anticipo i propri viaggi e quindi poter monitorare anche al di fuori delle stazioni i tempi di arrivo dei treni. benissimo complimenti venire in nuovo per quello che fate grazie per il servizio che è fornito a noi e quindi a chi ci segue e quindi ai romani a venerdì arrivederci Andrea Di Midio grazie grazie a voi buona serata a tutti